Romagna mia, Romagna è il fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore, quando ti penso vorrei tornare, dalla mia bella alta solare. Dalla mia postazione vi stavo aspettando proprio per regalarvi il mio sorriso e il mio buon umore e cercherò di portarlo anche direttamente a voi con la buona musica e le migliori scuole di ballo che fanno parte della nostra terra. Dalla Romagna vi diamo il benvenuto, vi ricordo appunto in apertura di questa puntata che questo programma è prodotto delle edizioni musicali Casa Dei Sonora, io sono Letizia e andiamo a scoprire insieme quali sono i protagonisti della giornata di oggi. Come sempre ringrazio tutte le emittenti che fanno parte del Circuito Centro TV e ovviamente ringrazio anche Dardari Multimedia per il supporto e il montaggio, la cura che hanno giorno dopo giorno nel seguirci in queste nostre puntate. Come sempre vi aspetto per concludere insieme la nostra giornata di oggi. A dopo amici. La mia suona Orsolina. Io cerco la murosa, la voglio romagnola, la cerco verginella, la cerco campagnola, la voglio esclusiva. E pensi solo a me, sarà la mia amorosa, poi diventerà mia suona. E quando fischia lo fanco, me la stringo fuori al cuore. E se non ha la dote, ma non me ne importa niente, l'amore è una capanna. La banca ed il tridente, noi pianteremo le fave, raccoglieremo i fiozzi, ma chiuderemo le porte per restare sempre soli. Gli amici busseranno, ma nessuno risponderà. Io cerco il fidanzato, lo voglio romagnolo, lo cerco appassionato, lo cerco campagnolo, Lo voglio in esclusiva, che pensi solo a me. Se tu non ti decidi, non mi fai la tua proposta, ne troverò un altro escapolore, resterai. Io cerco l'amorosa, io cerco il fidanzato, la cerco verginella, la cerco appassionato, La voglio in esclusiva, che pensi solo a me. Ma chiuderemo le porte per restare sempre soli. Gli amici busseranno, ma nessuno risponderà. Ehi, tanta romagna! Signori, io cerco un bel fidanzato. E io cerco l'amorosa. Ma vai via, ma, che sono quarant'anni che la cerco. Io ho trovato anche il marito intanto. La voglio in esclusiva, che pensi solo a me. E chiuderemo le porte per restare sempre soli. Gli amici busseranno, ma nessuno risponderà. Gli amici busseranno, ma nessuno risponderà. Le edizioni musicali Casadei Sonora di Savignano sullo Rubicone aprono le proprie porte a singoli, gruppi e scolaresche per raccontare il mondo di secondo Casadei e la storia della musica da ballo romagnola. Nella sua residenza, che fa parte dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, potrete ammirare lo studio in cui il maestro fondatore dell'orchestra Casadei ha scritto gran parte delle sue mille composizioni. Ed inoltre spartiti originali, strumenti musicali, manoscritti, fotografie, divise, premi e riconoscimenti di stima e di affetto che documentano una carriera lunga 50 anni. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di una musica da ballo senza tempo. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di una musica da ballo senza tempo. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di una musica da ballo senza tempo. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di una musica da ballo senza tempo. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di una musica da ballo senza tempo. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di una musica da ballo senza tempo. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di una musica da ballo senza tempo. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di una musica da ballo senza tempo. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di una musica da ballo senza tempo. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di una musica da ballo senza tempo. Vi stavo aspettando proprio per finire in bellezza, con il nostro sorriso e la nostra simpatia. Spero di avervi portato un pizzico di allegria romagnole. Come sempre, io vi aspetto domani con nuove musiche, nuove canzoni, nuove emozioni da vivere insieme. Ciao, grazie. 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 Grazie.